cominciamo disegnando la testa usiamo le linee guida di un quadrato useremo questo quadrato come riferimento per tutto il disegno teniamolo da parte dividiamo il quadrato in due e disegniamo un occhio grande come la metà del quadrato ma un po' all'esterno e l'altro occhio un po' sovrapposto il naso piccolo sul lato superiore i capelli a punte e una gobbetta qui per il sopracciglio un po' sovrapposto la bocca cade a una distanza di mezzo quadrato dalla base del primo quadrato l'orecchio è a metà strada l'orecchio l'orecchio il busto sarà alto poco più di un quadrato e mezzo disegniamo prima una specie di forma a pera e ora la maglietta prima la manica l'orecchio e un braccio in tasca ora i pantaloncini le gambe i calzini l'orecchio in tasca l'orecchio in tasca e scarto l'orecchio in tasca l'orecchio in tasca l'orecchio l'orecchio in tasca Il secondo braccio si intravede, inchiostriamo. Coloriamo, aggiungiamo qualche effetto di luce e ombra. Grazie per la visione! Grazie per la visione!